Buongiorno, sono Diego Marconi, professore merito di filosofia del linguaggio dell'Università di Torino e socio dell'Accademia delle Scienze di Torino. Oggi vorrei parlarvi dell'argomentazione in filosofia, ma prima di farlo bisogna fare un po' di filosofia dell'argomentazione. Che cos'è un'argomentazione? In primissima approssimazione, diciamo che un'argomentazione è un modo di sostenere una qualche tesi, opinione, credenza, portando delle ragioni che la sostengano, cioè delle considerazioni che inducono a ritenere che quella tesi, opinione, credenza sia vera. Se la parola verità vi disturba, ma dovremmo usarla piuttosto spesso di qui in poi, possiamo dire che un'argomentazione è un modo di aumentare la credibilità di una tesi. Per esempio, mettiamo che io sia convinto che Dio esiste. Credo che la proposizione Dio esiste sia vera e questa mia credenza è sfidata da qualcuno, chiamiamolo Carlo in omaggio a due grandi atei, Charles Darwin e Karl Marx, il quale sostiene invece che Dio non c'è. a questo punto io posso fare varie cose. Una è niente ed è probabilmente quello che capita in più delle volte. Io mi tengo la mia credenza, Carlo si tiene la sua e amici come prima. Capita per esempio che leggiamo un articolo sul giornale, troviamo che dice un bucchio di sciocchesse e di falsità e che cosa facciamo? Niente. Non sempre scriviamo una lettera al giornale per sostenere la falsità di quanto sostenuto, eccetera. Tutta vive. A quanto pare, gli esseri umani cercano il consenso, desiderano che gli altri siano d'accordo con loro, ma sopportano che le loro opinioni non siano condivisi. E oltre a so, e forse soprattutto, il consenso è indispensabile molto spesso quando si devono raggiungere obiettivi condivisi. Se vogliamo sconfiggere il virus, abbiamo bisogno di dati condivisi sulla natura del virus, sull'andamento dell'epidemia, su quali cure sono efficaci, sugli effetti dei vari comportamenti, eccetera. Se i decisori politici non sono d'accordo tra di loro su tutto questo, non si va da nessuna parte. Ora, se si desidera il consenso dei propri interlocutori, di nuovo si possono fare varie cose. Si può minacciare l'interlocutore, vi si può usare violenza, oppure lo si può corrompere, comprare il suo consenso. Oppure lo si può lusingare. Come è possibile che una persona della tua intelligenza non riconosca una verità così evidente. E questa è una forma sottile di corruzione. E si può fare altro ancora. Ma una cosa che possiamo fare è portare delle ragioni a sostegno della nostra opinione. Per esempio, dire a Carlo che la bellezza e la perfezione dell'universo testimoniano dell'esistenza di Dio. Oppure dirgli che se guarda nel profondo della sua anima troverà che in realtà anche lui crede che Dio esista. Senonché Carlo potrebbe non trovare niente nel fondo della sua anima e potrebbe non essere particolarmente convinto che l'universo sia questa gran bellezza, come Voltaire o Giacomo Leopardi. Oppure potrebbe pensare che bellezza e perfezione dell'universo siano perfettamente compatibili con la non esistenza di Dio. Allora, qual è l'idea che nasce nel mondo greco, probabilmente verso l'inizio del V secolo e forse un po' prima? L'idea è che conviene partire da premesse che Carlo condivide, oppure che sono così ovvie che ogni persona ragionevole non può che condividere. E poi mostrare che da quelle credenze, che chiamiamo premesse dell'argomentazione, segue inesorabilmente la nostra tesi. In questo caso segue che Dio esiste. Un'altra idea, anche quella praticata fin dall'inizio della filosofia occidentale, è mostrare a Carlo che la sua tesi opposta alla nostra è indifendibile perché è contraddittoria, porta a credere contemporaneamente che le cose stanno in un modo e che non stanno in quel modo. E certamente Carlo, come ogni persona ragionevole, non è disposto a credere una contraddizione perché una contraddizione è assurda. Una terza idea consiste nel far vedere che la nostra tesi che Dio esiste, per restare ad esempio, spiega molte cose che altrimenti è difficile spiegare. Che cosa vuol dire che spiega molte cose? Vuol dire che prendendo la tesi come una premessa, un punto di partenza, ne derivano molte conseguenze che possiamo effettivamente constatare. Molte importanti teorie scientifiche sono argomentate in questo modo, per esempio la teoria dell'evoluzione, che spiega la distribuzione dei fossili negli strati di roccia, la distribuzione geografica delle specie animali e vegetali e molte altre cose. E soprattutto, e questo è il punto, spiega tutto ciò meglio di qualsiasi altra ipotesi disponibile. È la miglior spiegazione di tutto ciò. Dunque, tre modi in cui potremmo pensare di sostenere la nostra tesi e di portare Carlo a credere che sia vera. Primo modo, mostrare che segue necessariamente da certe premesse che Carlo accetta e nel ciò che si intende per argomentazione deduttiva. Secondo modo, mostrare che negare la tesi porta contraddizione ed è ciò che si intende per dimostrazione per assurdo o riduzione all'assurdo. Terzo modo, mostrare che la tesi spiega molte cose meglio di altre. Inferenza alla spiegazione migliore, qualche volta chiamata anche abduzione con un termine introdotto dal filometro americano Charles Sanders Peirce. Quando parliamo di argomentazione, di solito abbiamo in mente l'argomentazione deduttiva, cioè il primo modo. Ma non bisogna dimenticare le altre, le argomentazioni per assurdo e l'inferenza alla spiegazione migliore. Per esempio, uno dei più famosi argomenti filosofici, la cosiddetta prova ontologica dell'esistenza di Dio, dovuta a un filosofo nell'undicesimo secolo, Anselmo di Aosta, è una dimostrazione per assurdo. Parte dall'ipotesi che Dio non esista, come sostiene Carlo, e fa vedere che queste ipotesi comportano una contraddizione. E le inferenze alla spiegazione migliore sono oggi teorizzate da uno dei più insigni filosofi attualmente attivi, Timothy Williamson, come caratteristiche della filosofia, ed effettivamente sono state regolarmente usate, queste argomentazioni che sono in inferenza alla spiegazione migliore, sono state regolarmente usate dai filologi, a cominciare da Platone, Kant e molti altri. Ora, per descrivere i vari tipi di argomentazione ho usato espressioni come comporta, segue necessariamente, eccetera. Che cosa vuol dire? Il primo che ha tentato di dare una risposta sistematica a questa domanda è stato Aristotele. Il suo organo, l'insieme dei suoi scritti logici, contiene la prima teoria sistematica dell'argomentazione. Aristotele descrisse una serie di forme di ragionamento in cui, con le sue parole, se certe cose sono opposte, certe altre, diverse da quelle, seguono necessariamente. e per questa ragione Aristotele è considerato il padre della logica, cioè della teoria del ragionamento. Ora, Aristotele è stato, come tutti sapete, uno dei più grandi geni che l'umanità abbia mai prodotto. La sua autorità scientifica e filosofica è durata, quasi indiscussa, per 18 secoli. Tuttavia, la sua risposta alla domanda che cosa vuol dire che una proposizione B segue da altre proposizioni, a 1, a 2, fino ad a n, era incompleta, era incompleta per almeno due aspetti. Anzitutto, le forme di ragionamento presentate da Aristotele, i cosiddetti sillogismi, non erano le sole forme valide di ragionamento, cioè le sole forme di ragionamento in cui la conclusione segue dalle premesse. Questa lacuna fu, in parte, colmata abbastanza presto dai filosofi stoici che fecero vedere che c'erano forme di ragionamento diverse dai sillogismi di Aristotele e tuttavia valide. Per esempio, queste... Se A, allora B. A, quindi B. Non B. Se A, allora B. Quindi non A. Ognuno vede che questi ragionamenti, i ragionamenti che hanno questa forma, funzionano, ma non sono sidodini, non sono forme di ragionamento come quelle che aveva considerato Aristotele. Ho lì indicato che la prima forma di ragionamento viene chiamata modus ponens e la seconda viene chiamata modus tonens. Sono nomi medievali che tuttavia si usano ancora correntemente. Una teoria molto più completa delle forme valide di ragionamento sarebbe arrivata soltanto tra la fine del XIX e l'inizio del XX secolo con un'opera di Frege, di Hilbert e di Bertrand Russell. La seconda ragione di incompletezza della risposta di Aristotele alla domanda cosa vuol dire che B segue da A1 e 2 a N è che Aristotele non analizzò davvero la nozione di seguire da. Si accontentò di esemplificarla, anche se in modo molto efficace e sistematico. Seguire per Aristotele è essere nel rapporto in cui stanno tra loro le premesse e la conclusione di un silogismo. La conclusione di un silogismo segue dalle premesse. Una vera analisi della nozione di seguire da sarebbe arrivata soltanto nel XX secolo ed è la seguente. Dire che una conclusione segue da certe premesse e dire che non è possibile che le premesse siano vere e la conclusione sia falsa. Se le premesse sono vere, la conclusione è vera anch'essa. Un'argomentazione così fatta, un'argomentazione che ha questa proprietà, è detta un'argomentazione valida. Forse qualcuno sarà perpresso dal fatto che in questa definizione vengano usate un po' spensieratamente parole e nozioni impegnative come verità e falsità, in realtà non sono affatto usate spensieratamente. Si è trovato che veramente non c'è altro modo di analizzare l'idea intuitiva di seguire da, cioè di quella che chiamiamo conseguenza logica. L'alternativa è definire la nozione di seguire da mediante esempi, come in fondo faceva Aristotele con la sua teoria del silogismo e anche gli stoici, con la teoria dei modi, ponens, tollens e ce ne sono anche altri. Dire cioè, le argomentazioni che hanno queste forme vanno bene, sono valide. Per esempio il modus ponens va bene. E poi dare una regola generale per produrre altre, infinite altre argomentazioni a partire da queste mostrando che anche quelle vanno bene. E anche questo è stato fatto in epoca moderna e costituisce un altro punto di vista sulla logica altrettanto legittimo di quello che vi ho illustrato con la nozione di validità. La logica è interessata alla nozione di seguire da, cioè a circoscrivere le argomentazioni in cui se le premesse sono vere anche la conclusione lo è. in altre parole la logica è interessata al concetto di validità, ma nella vita di tutti i giorni, nell'essenza e nella filosofia a noi di solito non ci basta sapere che un'argomentazione è valida. Mettiamo che io sia a Torino e debba arrivare a Milano per le otto di sera. Certamente se c'è un frecciarossa alle cinque e mezza e quel treno vianda regolarmente io arriverò a Milano in tempo. Ma il punto è, c'è un frecciarossa alle cinque e mezza e quel treno viaggerà regolarmente, se non so questo non so se arriverò a Milano in tempo, anche se l'argomentazione è perfettamente valida. In altre parole, le argomentazioni valide, la validità di un'argomentazione ci garantisce che se le premesse sono vere anche la conclusione lo è. Ma se ciò che si interessa è la verità della conclusione, se arriverò a Milano in tempo, allora abbiamo bisogno che le premesse siano vere. Non ci basta che, come si usa dire, implichino la conclusione. Cioè abbiamo bisogno che l'argomentazione sia non solo valida ma corretta. Un'argomentazione corretta è un'argomentazione valida e cui premesse sono vere. Intendiamoci, anche nella scienza e nella filosofia, molto spesso è molto interessante sapere che certe premesse implicano una certa conclusione, perché dimostrare che le premesse a 1, a 2, a n implicano la conclusione b e al tempo stesso dimostrare la verità di quello che si chiama il condizionale se a 1, a 2, a n allora b. E molte volte questo è di per sé interessante e importante. In conclusione, spesso si è interessati alla connessione tra premesse e conclusione. Per esempio, Spinosa era interessato a far vedere che se si assumono, se si prendono per buone certe premesse, certe tesi metafisiche che tutti, in qualche modo, prendevano per buone, allora segue che c'è una sola cosa al mondo, un'unica sostanza che è lì. La resistenza di un'unica sostanza segue da premesse. E lì quello che importava Spinosa era proprio far vedere questa connessione. Oppure un filosofo contemporaneo, Donald Davidson, ha fatto vedere che se si definisce la verità come corrispondenza, cioè se si dice che un enunciato vero è un enunciato che corrisponde ad un certo fatto, per esempio l'enunciato le ciliegie sono rosse e vero perché corrisponde al fatto che le ciliegie sono effettivamente rosse, allora se la verità viene definita in questo modo, allora se una proposizione corrisponde ad un certo fatto, tutte le proposizioni vere corrispondono a quel fatto, tutte le proposizioni vere corrispondono al fatto che le ciliegie sono rosse. Qui è chiaro che quello che è interessante è il rapporto tra teoria della corrispondenza e teoria della verità come corrispondenza e questa conclusione paradossale. Se si è interessati alla verità della conclusione, non al rapporto logico tra premesse e conclusione, converrà scegliere premesse il più possibile plausibili, perché a questo modo si avvalorerà la plausibilità della conclusione, la plausibilità delle premesse, se l'argomentazione è valida ovviamente, si trasferisce alla conclusione. Per esempio Tommaso d'Aquino era interessato, come sapete, a dimostrare l'esistenza di Dio e per dimostrarla partiva da premesse plausibili, per esempio Niente comincia ad esistere di per sé, ma sempre grazie a qualcosa altro che lo fa esistere. Oppure nel mondo ci sono oggetti in movimento. Chi può dubitare di queste cose, specialmente della seconda? Se da queste premesse così plausibili segue logicamente, segue necessariamente che Dio esiste, allora è plausibile pensare che Dio esiste. Altre volte invece si è interessati a svalutare una certa tesi, a convincere che la tesi è falsa e qui il caso classico è quello della riduzione all'assurdo. L'idea è che se da una premessa segue una contraddizione, allora quella premessa deve essere falsa, perché una contraddizione non può essere vera. È assurdo pensare che una contraddizione sia vera. Per esempio, se come pensava Sant'Anselmo, Anselmo di Aosta, dalla premessa che Dio non esiste segue una contraddizione, allora non è vero che Dio non esiste. Cioè è vero che esiste. Ma ci sono anche casi meno estremi. Se da una premessa seguono conseguenze del tutto implausibili, allora quella premessa è a sua volta poco plausibile. Per esempio Cartesio notava che dalla premessa che gli uomini sono macchine, segue che una macchina potrebbe parlare come un essere umano. E Cartesio ovviamente, non avendo esperienza di intelligenza artificiale, considerava questa conseguenza del tutto implausibile. Qui però bisogna fare molta attenzione, perché spesso nelle scienze si è trovato che da certe premesse seguivano conseguenze apparentemente poco plausibili e tuttavia queste conseguenze poco plausibili sarebbero state in seguito accettate. Per esempio, la teoria di Newton. La teoria di Newton comportava che vi fossero interazioni a distanza tra colpi fisici, quelle dovute alla forza di gravità, naturalmente. I cartesiani trovavano che questo era puro pensiero magico e tuttavia noi accettiamo senza problemi la gravità oggi. Quindi bisogna fare attenzione a concludere dall'implausibilità delle conseguenze alla falsità delle premesse. concludo questa prima conversazione con qualche osservazione generale sul ruolo dell'argomentazione in filosofia. Questo ruolo non è sempre stato lo stesso, l'argomentazione non ha sempre avuto lo stesso spazio e lo stesso tempo. La filosofia greca classica, il pensiero filosofico medievale, la filosofia della prima modernità da Cartesio fino a più, sono state fortemente argomentative. Il neoplatonismo antico, la filosofia del rinascimento, la filosofia contemporanea ispirata all'eredità di Nietzsche e di Heidegger lo sono state molto meno. Ci sono filosofie sapienziali che presentano come vere certe tesi senza argomentarle e ci sono filosofie descrittive che descrivono per esempio la situazione dell'uomo nel mondo presumendo di rendersi immediatamente credibili non mediante l'argomentazione ma attraverso l'efficacia intrinseca della descrizione. E molte di queste filosofie hanno avuto e hanno grande efficacia culturale influenzando altri settori della cultura e anche in certi casi il modo di vedere le cose delle persone comuni. D'altronde anche le filosofie argomentative non sono tutte uguali. Molti dialoghi di Platone si presentano come fortemente argomentativi ma le argomentazioni non sono sempre di buona qualità. Gli appunti dei corsi di Aristotele che vanno sotto il nome di metafisica contengono molte argomentazioni ma spesso così oscure e così contratte che è difficile ricostruirle con certezza e quindi valutare. La scienza della logica di Hegel si presenta come un libro interamente argomentativo, esclusivamente argomentativo ma molti pensano che quelle di Hegel non siano vere argomentazioni, siano poco più che giochi di parole o presentazioni di tesi preconcette. Non è la mia opinione ma è un'opinione diffusa. Insomma in filosofia l'argomentazione non è tutto e noi lo è mai stato tranne forse che in certe fasi della filosofia medievale. Tuttavia è ed è stata molto e spero prossimamente di presentarvi qualche esempio. Grazie dell'attenzione e alla prossima.